Brutta disavventura per un trentenne ravennate che nel pomeriggio di oggi ha riportato un trauma cranico in seguito ad una caduta avvenuta nella piscina di via Lorazio a Lido Adriano. Secondo le prime informazioni l'accolto il giovane è scivolato procurando su una ferita al capo. Alla vista del sangue il ragazzo avrebbe iniziato ad agitarsi tanto che il 118 chiamato sul posto ha richiesto l'intervento anche di una pattuglia della polizia. Dopo le prime cure sul posto ed averlo intubato i sanitari giunti con ambulanza automedicalizzata hanno ritenuto opportuno il ricovero al bufalino di Cesena con l'edimedica atterrata nell'area del campo sportivo di Viale Manzoni.